No, perché contrariamente a quanto possa dire il risultato non è stata una grande prestazione ieri quella del Milan, perché a fine primo tempo 2-0 sopra, vabbè che abbiamo fantasmi del passato recente che questo risultato in trasferta non ci porta particolarmente bene al 45esimo minuto, ma anche perché soprattutto poi l'Empoli è stato tutto fuorché domo durante la seconda parte. Cioè abbiamo rischiato ieri, cioè il Milan comunque si è mostrato fragile per carità, comunque deve giocare Bartesaghi, entra Jimenez a partita in corso perché noi se non facciamo un tributo di sangue a partita non possiamo omologare la stagione. L'avevamo detto all'ultima, due partite senza infortuni. No, ma era pressoché scritto, anzi io ero già pronto a dover salutare Reinders per due mesi perché era proprio mai quello disegnato, il prossimo è lui, cioè l'unico che ancora non si è mai rotto è veramente il prossimo. Poi per carità è ovvio, cioè a conti fatti però effettivamente è una partita che già avevo indirizzato dopo il decimo minuto e comunque il Milan è una squadra che soffre particolarmente le partite, cioè perché il Milan soffre spesso e volentieri le partenze, cioè il Milan è una squadra che spesso e volentieri approccia male alle partite. Però da qui a fare i salti di gioia, questa deve essere la normalità, vincere, recuperare anche una qualcerta solidità in mezzo al campo e in difesa, anche perché questa cosa tipo il doppio play Reinders-Adli bene ma scricchioliamo troppo, scricchioliamo troppo. Purtroppo Adli è un giocatore che è veramente molto facile da aggredire quando è in possesso, anche ieri ci sono state un po' di situazioni in cui le palle perse potevano essere potenzialmente molto molto sanguinose e poi niente, no, molto contento per Ciaka Traore perché comunque è sempre, cioè il primo gol insomma per l'emozione del debutto e poi mi ha sorpreso Pulisic perché fino al novantesimo Nectoplasma poi ha fatto la scroppata con conseguente assist 6-5 E comunque che mettiamola così se avesse un altro ufficio stampa, ma soprattutto se il Milan facesse un'altra stagione probabilmente se ne parlerebbe di più in termini di miglior acquisto dell'ultima sessione di mercato. Invece sì, è vero. No, al momento il primato è giustamente di Turam. Certo, però del Milan sicuramente. Comunque gli acquisti del Milan sono la cosa forse più buona di questa prima metà, cioè stanno facendo più o meno quasi tutti bene. Io adesso non per continuare la lotta antipiolista, però se appunto gli acquisti funzionano, ma i risultati sono scadenti e di chi sarà la colpa? Beh, adesso ne ragioniamo comunque. Gli acquisti funzionano grazie anche a lui. No, 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 lotti meriti sono casuali, tutti casuali. Teo difensore centrale? Con le piccole va bene, però anche questa è la cosa, cioè no, no, no. Che snobbismo è questa frase? Non è che è snobbismo, allora mettiamo... Con questo occhiale da sole posso prenderlo sul serio. Riformuliamola. Allora, con le squadre in difficoltà va bene, però hai il migliore interprete del suo ruolo al mondo e io voglio rivederlo lì. Per carità no, perché ha giocato bene, però appunto ce ne sono state anche partite in cui è stato in difficoltà, però il ruolo di Teo, il terzino, cioè a 26 anni, cioè questo magari è un rimpianto che posso avere con Abbate, perché quando ha giocato centrale con Gattuso nel 18-19 a me era sempre piaciuto, però appunto poi era un giocatore a fine carriera, perché quella è stata la sua ultima stagione. Cioè Teo, ho 26 anni nel fiore della carriera, deve giocare nel suo ruolo. Francesco, per favore smettila. Io sottolineo, tu dici l'informazione, io sottolineo comunque il fatto che chi sia stato lui l'allenatore, il grande inventore di Abbate centrale. No, il grande inventore di Abbate centrale, perché era un periodo in cui dovevamo giocare con Calabria Mediano, cioè non è che era questa grande illuminazione di Gattuso. Comunque, visto che l'hai citato, i risultati del Milan, e allora parliamone. Bilancio Milan, visto che siamo a metà campionato, 39 punti in 19 partite, quindi potenzialmente 78 in 38, meno 9 dal primo posto. Per quello che è il livello del Milan, per gli infortuni che ha avuto, per tutte le problematiche che ci sono state. Vabbè, ma io non avevo visto qua questa class action. Mi avvisavate così, mi preparavo. Troppo pochi? Sì. Cioè se il Milan chiudesse con 78 punti per il valore della rosa, tu dici no, dobbiamo farne 90. No, 90 no. Beh, 78 scusami. No, il Milan secondo me è nel range che va da 85 a 90. No, non sono d'accordo. Ma molti la pensano così, evidentemente. Non sono d'accordo perché il Milan ha comunque cambiato tanti elementi, anche se si è rinforzato molto. È una squadra in cui molti giocatori non era scontato che facessero benissimo, stanno facendo bene. Paradossalmente quelli che erano le certezze non stanno andando bene. E quello è sicuramente un tema, però non so quanto si potrebbe chiedere. Ma vi levate gli occhiali. No, ma... Io l'ho detto, cioè io ho scelto il computer che mi ha veramente tanto fatto io, scusa. Con tutte queste necessità che sta avendo Pioli. È vero che di necessità puoi fare virtù, però effettivamente quando si trovi in una situazione del genere credo che nessuno possa riuscire a fare 90 punti. Cioè credo che veramente neanche Guardiola... Ma le ha fatti spalletti l'anno scorso, 90 punti. Forse è vero che con Guardiola... Guardiola avrebbe avuto un altro staff, non lo staff di Pioli, e non ci sarebbero stati tutti questi infortuni. Questo forse sì. Ma... Però sappiate che questa cosa non è un'idea di Filippo. Cioè non gli dici, vabbè, Filippo è pazzo. Moltissimi, l'ho letta da moltissime parti. Ma mi sembra molto una cosa che sta crescendo perché comunque i risultati sono tutt'altro che indecenti e quindi bisogna comunque prendersela con Pioli e inventarsi che il Milan è una squadra da 90 punti. Che è una follia per quanto mi riguarda e vabbè... Beh, abbiamo fatti 86 vincendo uno scudetto una squadra molto più scarsa di questa. Cioè per me è quella del range del Milan. Ho capito, però... Allora, partendo dal presupposto che il record di punti l'ha fatto Pioli. Proprio questo è un piccolo dato da analizzare. No, basta. Tra l'altro se volete sapere il record di punti di tutte le squadre di Serie A c'è un articolo, oggi l'ho ripubblicato. Ehm... Comunque, il discorso è questo. Cioè non è che se Pioli... Quello scudetto è una condanna per Pioli. Cioè se non l'avesse vinto probabilmente l'opinione sarebbe migliore di lui. È un paradosso, ma è vero, perché ha alzato così tanto il livello che l'anno scorso si diceva solo Eh, ma siamo campioni d'Italia, non si può giocare così. E quest'anno... Sì, però è una follia, perché il Milan non era la migliore scuola del campionato. Pioli ha fatto un capolavoro vincendo quello scudetto. E su questo sono d'accordo, però c'è... Comunque è una forbice troppo ampia tra quello che stiamo vedendo quest'anno e quello che abbiamo visto due anni fa. Ma non lo so. Beh, è questo il problema del mio in generale. No, ma che Pioli sia da troppo a lungo e sia diventato il mostro, io lo dissi in estate. Però attribuirgli tutte le colpe di quando si perde, il merito quando si vince, questo è una cosa che... No, in Champions ce l'hanno più i singoli le colpe che Pioli, questo è oggettivo. No, in Champions ce l'hanno pagato da no. Filippo non fa... Comunque non ha... Cioè non è pazzo, è folle quello... No, 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 lo so, ma io non... Lo dico con la mia azione. Lo dico con la mia azione. No, 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 stiamo parlando di questa persona qui, comunque. Guardiamola bene. Eh, appunto, no, no, appunto. Il discorso no, è che secondo me fa bene, Filippo, a notare che ci sono delle differenze veramente troppo importanti... No, ma è chiaro, non è che il mio non abbia dei problemi, secondo me... No, no, è obiettivo, però forse probabilmente ci sono delle colpe proprio dal punto di vista gestionale e, diciamo, della messa in campo di alcuni giocatori, dei... Poi, abbiamo parlato di Leao l'altra volta, io leggicchiavo un po', diciamo, si diceva che Leao ha il dovere, l'obbligo di non far bastare più quello che ha fatto bastare fino a questo momento. Cioè, Leao che deve fare un salto in avanzo, un salto, diciamo, una crescita... Barzagli a... L'ha detto Barzagli, esatto, l'ha detto Barzagli. L'ha detto mezzo incazzato pure, insomma. E voglio capire, Filippo, conosco il pari di Filippo su Leao, ne ha parlato già l'altra volta, su questa propria domanda specifica, cioè, Leao in questo momento ha l'obbligo di, diciamo, fare di più, proprio dal punto di vista anche dell'atteggiamento. Quello sì, però comunque... Eh, perché Rafa è un animale stra... Oh Dio, no. Taglia. Però, vabbè, è un essere umano strano, però, onestamente, c'è anche ieri, prima sgasata, c'è, ha avuto l'opportunità e comunque ha praticamente fatto lui il gol. Eh, no, è una questione strana, perché effettivamente... Cioè, ma perché è proprio strana la stagione del Milan, onestamente, però, cioè, più che mai è arrivato il momento, e qui, semmai, si ritorna al discorso dell'obbligo, che Rafa a parole, cioè, ha espresso la volontà di voler essere il capitano, il simbolo del Milan, il trascinatore, e ora Dio è il tempo di mostrarlo con i fatti. Al momento non lo sta mostrando con i fatti, nonostante, penso, anche lui ieri sia arrivato a dieci GPUA, però, eh, Rafa Leao, io dieci GPUA, non li devi fare in tutta la stagione, li devi fare in campionato, cazzo. È vero. I fenomeni, o quelli che dovrebbero esserlo, non si comportano da tali, se la squadra non gira, secondo me. Certo, questo vuol dire che poi alla fine è colpa di Pioli, secondo me, nel caso specifico, sì, Pioli, secondo me, qualche colpa ce l'ha, ma io ripeto, per me il ciclo comunque era finito, quest'estate. Però, certo, dire che sta facendo così male, secondo me, la stagione, diciamo, di, in questa stagione, secondo me, non è così, perché come dicevamo prima, in Champions le colpe sono più che altro dei singoli. E in campionato comunque i risultati li ottiene. Certo, ma immagino che faccia rabbia il fatto che manchi quel qualcosina per lottare con le prime due, questo sì. Perché questa è la cosa. Però sta mancando, secondo me, per una serie di fattori, non amputabili, secondo me, al solo Pioli. Forse è più allo staff. Però allo staff è chi lo sceglie. Capito, però, io qua faccio un'altra domanda. Indirettamente sono colpe sulle. Ma è lo stesso discorso di Garzia, alla fine. Sicuramente verrò fregato da questa domanda, perché poi abbiamo Gianluca in live, che è la memoria maggiore esistente della storia del calcio italiano, per cui verrò fregato da questa cosa. Ma esiste nella storia del calcio, era una domanda chiaramente provocatoria, un allenatore che... avendo tanti infortuni, non viene giustificato da questi, ma anzi viene adesso il colpevole degli infortuni. Io non l'avevo mai sentita questa cosa. Cioè, una squadra a tanti infortuni è il colpe dell'allenatore. Cioè, mai l'avevo sentita. Eh, oddio, questa cosa sul gattuso qualche... Eh, ma anche con l'alline. Un'altra vittima, un'altra vittima, un'altra vittima, gennato. Ma più che dell'allenatore è lo staff. Però, appunto, cioè lo staff ha scelto l'allenatore e... Lo staff lo sceglie l'allenatore. Noi, se noi avessimo avuto la metà degli infortuni... Se noi avessimo avuto la metà degli infortuni, sarebbe stato un discorso condivisibile. Il Milan ha avuto 30... Vediamo che si è fatto Florenzi, perché pare fosse solamente un'uscita precauzionale quella di ieri. Però siamo a 31 infortuni. Cioè, è grottesca come situazione, è paradossale. Il Milan ha fatto debuttare 7-8 giocatori che sono nati dopo il 2004 quest'anno. Che per carità è un bene per come... Cioè, è un ottimo segnale per come sta lavorando il settore giovanile, però... Cioè, è grottesco. Perché il problema è tutto lì. Cioè, io non ho la pretesa di vincere. Cioè, nessuno può avere la pretesa di vincere. Neanche se sia il Milan. Nemmeno se sia l'Inter, nemmeno se sia la Juve. Però, arrivare al giro di Boa e pensare a come abbiamo perso punti, al fatto che, per carità, di buono c'è che con i risultati maturati ieri, non dico che abbiamo blindato i primi quattro posti, però io penso che il Milan tra le prime quattro quest'anno ci sarebbe arrivato in un qualche modo. Vabbè, ci siamo arrivati anche l'anno scorso con le penalizzazioni. Magari se ne inventavano una anche quest'anno. Però, il problema è che, come abbiamo un cuscinetto importante tra noi e il quinto posto, noi non possiamo essere a meno nove, meno sette da Inter e Juve, secondo me. Tutto questo, ripeto, senza la pretesa di vincere. Però il Milan, quanto meno, ma appunto per il valore dei giocatori che ha... Però, scusami, anche l'Inter sta andando oltre... Cioè, è l'Inter che sta facendo una stagione fuori scala a livello di punteggio, secondo me. E anche un paio di punti in meno poteva... La Juve che non ha le cose... Sono entrambi che stanno facendo molti punti. Sì, però io penso che il Milan, secondo me, c'è a 40... Cioè, il Milan poteva stare tranquillamente a 42 punti. Cioè, bastava solamente... Ma qualche punto si poteva averlo, chiaro. Eh, chiaro, però questo... Però, non è che cambia troppo... Anche la Juve, se vuol dire, potevi non perdere col Sassuolo 4-1, o l'Inter, e ha perso col Sassuolo... Adesso non ricordo il Milan, nello scodetto, a quanti punti avesse chiuso il girone d'andata. 86 è andata, non lo so. Eh, no, 86 in tutto, ma il girone d'andata... Eh, non mi ricordo. Tanti più punti di quest'anno. Forse non è così... Non credo. Così ampia la forbice, lo sai? Perché io mi ricordo che fece un girone di ritorno pazzesco. Cioè, le ultime partite che... No, dicemmo le ultime sette. Le ultime sette. Mi tenuto. Comunque... Comunque, ci tengo a precisare questa cosa. Chiaramente, io... Cioè, faccio sempre il reazionario, come Filippo mi ha definito, su Pioli, ma non perché... Penso che Pioli non abbia colpo perché Pioli sia perfetto, o che il Milan sia perfetto e non potesse fare di meglio. Io sono il primo a dire che se... Se pensi... E soprattutto se sei milanista e ripensi alla partita con l'Udinese, soprattutto, per me, quello è proprio il capolavoro del disastro. Veramente ti viene da strapparti i capelli. Però, allo stesso tempo, mi sembra che le critiche non siano proporzionate alla realtà e a quello che stiamo vedendo davvero. Cioè, mi sembra troppo spropositate in eccesso, per come la vedo io. E soprattutto, tutte le cose positive, tutte le cose... Cioè, ogni volta, l'altra volta, faccio vedere una statistica di Pulisic che postava una statistica di Pulisic che sono anni che non rendeva così bene. Ci saranno dei meriti di Pioli in questo, o no? È tutto casuale, è tutto a merito dei singoli e poi Pioli non ha solo le colpe. Cioè, Pulisic, Reinders, ma tutti i giocatori valorizzati, ma Tonali, quelli del passato, Teo Hernandez... Non lo so, mi sembra veramente tutto molto... No, comunque feci 40 minuti in base, giusto per... Cioè, nel... no, nel caso, nel girone d'andata. Ah, vedi già come... No, scherzi a parte, adesso c'è... Insomma, quando c'è... Insomma, non dare delle colpe a Pioli... Io ho dato, per esempio, quelle lì del... Cioè, l'uscita in Champions, Pioli è l'ultimo che deve responsabilità. Ma chiaro, però tu... In un determinato contesto. Tu nell'ambito, comunque, dell'antipiolismo sei l'antipiolista moderato? Pensa un po'. Quindi... No, però la cosa... Beh, però quello lì... Cioè, il discorso che hai fatto... Comunque è condivisibile, è perfettamente condivisibile. È ovvio che Pioli ha dei meriti sul rendimento dei alcuni giocatori in questa stagione. Però, appunto, poi subentra il ragionamento di pancia, quello del tifoso. E il tifoso milanista, in questo momento, è abbastanza frustrato dalla gestione di Pioli. Però, appunto, comunque... Cioè, noi siamo ancora in corsa per due obiettivi. E, appunto... Cioè, c'è anche la possibilità che questa esperienza piolista, che già si è protratta un anno in più del dovuto, possa finire con una, se non addirittura due note particolarmente liete. Però... È che la vedo abbastanza difficile. Il movimento antipiolista deve pregare di no. Questi giocatori... Comunque non è che conoscivano... Guarda, scusa, Gianluigi, una cosa francese. Non è che devo pregare di no. Cioè, non è che io mi taglio il cazzo per fare un disperto alla moglie. Certo. Ma lo so bene, lo so bene. Però... La mia... Vabbè, lasciamo perdere. Non diciamo nulla, anche perché... Lascia farlo. E... Gianluca, ti dicevi, scusami. No, no, comunque erano acquisti che non è che conoscessero così bene il campionato italiano. Cioè, lo stesso Renders è subito entrato nelle gerarchie, subito entrato nelle rotazioni. Ed è adesso già il fulcro del centrocampo del Milan. Loftus-Cic, lo stesso Pulisic. Su Pulisic, per esempio, c'erano, vi ricordo, di dubbi all'inizio. Si potesse veramente rendere così tanto. Ecco. Tu non pensavi che Pulisic potesse... Guarda come tu l'ha trasformato, guarda come tu l'ha trasformato nel miglior giocatore del Milan. Poi sì, i vecchi... Stefano, lo scacchiere, lo scacchiere. I vecchi stanno facendo male, però... Ecco, per esempio, Giroud ha un fuori un anno in più e secondo me un altro acquisto in attacco andava fatto. No, non ce l'ha fatto, Giroud... piccolo merito... Ecco, perché non è che sto dicendo che il Milan è lì solo grazie a Piove. Però secondo me ha tanti piccoli meriti su ciò che sta facendo il Milan. Poi certo ha parecchie colpe per un paio più che altri di gare veramente non giocate dal Milan. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.